Napoli bloccata per lo sciopero dei lavoratori della Samir, la ditta incaricata delle pulizie della ANM. I dipendenti che stanno impedendo l'uscita degli autobus dai depositi e la circolazione dei treni della metropolitana hanno causato la sospensione della linea 1 e di tutte le linee degli autobus su tutta la tratta dalle 6 di questa mattina. Sarebbero stati ritrovati anche dei detriti posizionati sui binari dei treni. Il disagio per gli abitanti è notevole. Sono migliaia le persone in strada davanti alle fermate. Motivo della protesta? Stipendi arretrati non pagati. La Samir infatti vanta un credito di 5 milioni di euro dall'ANM. Sono sindaco da 7 anni e quello che ho visto oggi non lo avevo mai visto. Queste persone sono nemiche della città, così ha commentato il sindaco De Magistris stamattina annunciando tolleranza zero verso i responsabili di quest'azione di protesta. Grazie.